ok steve ti conservo eh ma vediamo fammi vedere bravissimi tutti e due usando vedete lui perché allora vedi bravo vedi quando vai veloce che cosa fai valorizzi che cosa non quando punti la gamba vanno valorizzi quando richiami l'arte ma poi dopo una ventina di metri parti perché fai che una bellezza bravo proviamo proviamo ragazzi dai proviamo perché abbiamo un buon esercizi a fare bravo bravi se volete correre veloci dovete lavorare della base di richiamo certo 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 il piede attivo bravi le punte no no qui le punte devono essere messe così bravissimi bravissimi molto bene molto bene 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 ragazzi fatto questo potete scegliere tranquillamente il tipo di esercizi hamstring tibiale anteriore ci siamo molto bene adesso guardate cominciamo ad entrare sempre di più sullo specifico cominciamo a mettere a questi giochetti di corsa a queste esercitazioni un'esercitazione anche di stacco è un altro esercizio fondamentale che un saltatore deve imparare è il passo e stacco allora cosa devo fare faccio un passo e poi stacco lo faccio fare con poca 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 minchina allora signora qui hop 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 passo e stacco aspettate un secondo